Uno studio della London Business School dice che essere belli per un uomo diventa un ostacolo quando si cerca di essere assunti o di strappare una promozione. Si è visti come una minaccia da colleghi e superiori. Secondo te è vero e come mai? In certi casi potrebbe essere vero, in altri no. Dipende dalla situazione, dipende quanto potrebbe far piacere ad un datore di lavoro, la bellezza fisica e l'appariscenza estetica rispetto alle proprie capacità. Però è dubbiamente le capacità sono più importanti rispetto alla bellezza fisica. Secondo te perché da questa ricerca è emerso che tutto ciò riguarda gli uomini e non le donne? Riguarda gli uomini perché magari potrebbero avere più capacità rispetto alle donne, mentre invece le donne ne hanno di meno, però molto più importante è la bellezza per le donne. Infatti molto spesso si dice che la donna bella non è intelligente, invece l'uomo bello da questa ricerca emerge che viene associato anche all'intelligenza. Sì, è vero, questo è vero. La donna invece potrebbe avere delle capacità superiori rispetto all'uomo, però sa mettere in atto grazie alle sue doti che l'uomo non ha, molte più cose rispetto all'uomo. No, secondo me è più facile invece che uno bello trovi un posto di lavoro, perché avere vicino una persona bella è più facile, ti facilita anche il rapporto, non lo so, soprattutto un uomo. Di solito è la donna loca, bella, l'uomo si spera che uno lo abbini con l'intelligenza. Dallo studio è emerso che i fattori sono quelli psicologici, cioè si tende ad associare a un uomo bello un'intelligenza che invece a una donna bella non si associa. Sì, questo è vero, questo è vero, ma in effetti adesso non è sempre così, ma il si dice è questo, anche se insomma siamo stati smentiti. Non so, lasciarlo stompare che sia una delle donne più intelligenti del mondo. Certo, donne belle che invece hanno anche un gran cervello ce ne sono. Infatti, infatti sì. Io avrei detto che era più un problema per le donne. E invece è per gli uomini. Stranissimo. Non te lo saresti aspettata? No, direi di no. Secondo la ricerca il motivo è psicologico, per meglio dire il risultato di un diffuso stereotipo maschilista, cioè l'uomo attraente viene in media ritenuto anche intelligente e come tale rappresenta una doppia minaccia perché è chiamato a decidere assunzioni o promozioni. L'uomo bello, per riassumere, viene visto come una minaccia da superiore colleghe, come abbiamo detto. Se tu dovesse ritrovarti a lavorare con un uomo molto sexy, lo riterresti una minaccia o un piacere? Probabilmente tutte e due le cose. Tutte e due le cose, perché una minaccia? Beh, perché non lo so, in quanto donna magari non è vero, ma verso i colleghi maschi non lo so. Mi pare che verso gli uomini si sia un po' più ammiccanti che non verso le donne. Sembra che per gli uomini l'ambiente lavorativo, il fisico e queste cose fossero una cosa meno importante, ecco. L'ho sempre visto più come una cosa... Femminile. Femminile, esatto. Femminile. 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 Femminile.